Ciao, questo è un piccolo video outfit è sabato sera, sto per uscire sto andando a fare una pizza e mi giro dove magari c'è un po' di luce e vi volevo far vedere l'outfit è semplicissimo, non devo fare niente una pizza, quindi vediamo se riesco a fare a farvi vedere che cosa ho messo allora ho messo questa casacca qui in seta ed è questa casacca, ecco, la vedete è praticamente, metto così è una casacca che ha lo scollo, il collo a barca si può anche praticamente mettere una spallina di fuori perché ha queste maniche abbastanza strette qui ed è praticamente asimmetrica vedete? è bellissima, ha queste sfere sia verdi che color petrolio su questa base marrone poi ho un semplice jeans con cintura blu il jeans di Bershka questa casacca l'ho presa in un negozio che da me però non è un negozio in franchising è una boutique piuttosto piccola che però ha delle cose davvero belle e questa casacca beh, non mi ricordo di che marca è comunque è una marca che non è sicuramente facilmente reperibile negli altri, nelle altre città come scarpe? ho queste scarpe qui fatte in scamosciate con il cinturino col bottoncino qui così praticamente non le metto mai ma dato che mi dovevo fare semplicemente una pizza tutto vabbè, adesso le metto orecchini questi qua della coin anello con gli sveroschini verde acqua trucco trucco uno smokey sui toni del marrone comunque ho applicato dei marroni nella piega ho fatto una riga di eyeliner con lo stick eyeshadow di Kiko quello color petrolio che ho messo anche nella rima interna e sotto c'è un'ombra di marrone ho utilizzato la matita marrone di Neve Makeup è semplicissimo sulle labbra ho applicato ecco, un attimo ah, vi faccio vedere la borsa è il sacchettino marrone di prima classe e come gloss ho messo un pizzico del mio rossetto di essence il 41 Femme Fatale e come gloss il Lip Jewel 03 di Paola P e questo è il look finale sì, scusate ci sono i miei libri vabbè, non riesco a farvi vedere da capo a piedi comunque sì, quella è la mia come si chiama? come si chiama? beh, non mi ricordo quando ci si sveglia la mattina ci si mette la vestaglia ecco e questo è l'outfit molto semplice niente di che niente mi piace sì, mi piaciucchia devo scendere ciao ciao